Potrebbe avere più di una chiave di lettura l'omicidio di Francesco Nangano, il commerciante di auto e presunto bosso di brancaccio freddato sabato sera in via Messina a Marine. Gli investigatori stanno continuando a sentire testimoni e passanti che si trovavano vicino al luogo dell'agguato, ma in questo momento si lavora soprattutto sui quattro telefoni cellulari ritrovati nell'auto della vittima, fondamentali per ricostruire tutti i suoi contatti. Tra l'altro l'ultima telefonata Nangano l'ha ricevuta praticamente da morto. Uno dei suoi telefoni infatti ha squillato qualche minuto dopo l'omicidio. Anche questo un elemento che adesso è al vaglio degli inquirenti. Da capire non c'è solo il movente dell'omicidio di Nangano, freddato da due sicari a bordo di scooter in piena strada e con modalità assolutamente plateali, come un vero boss, ma anche i nuovi equilibri interni alla cosca di brancaccio. Assolto al processo in cui era imputato per omicidio ed estorsioni, Nangano aveva comunque un ruolo di tutto rispetto in seno al clan. La sua intraprendenza nelle estorsioni e nel traffico di droga potrebbe però aver dato fastidio a qualcuno. Tra le ipotesi c'è infatti quella che l'ordine di eliminarlo sia partito dal carcere e in particolare dal boss di brancaccio Nino Sacco. La vittima di recente aveva subito anche due intimidazioni. La prima un incendio scoppiato nel suo autosalone e la seconda un mese fa, quando la sua auto venne data alle fiamme. Nessuno dei due episodi era stato però denunciato. Grazie. 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 Grazie.